È mercoledì e oggi c'è Francesca che ci dice la nostra pillola grammaticale. Buongiorno a tutti, oggi in classe i miei studenti mi hanno chiesto di spiegare la differenza tra il verbo vedere e il verbo guardare. I due verbi sono molto simili ma nascondono una piccola differenza. Il verbo vedere non implica una volontà da parte del soggetto di vedere qualcosa. Io vedo perché ho la vista, perché le cose stanno davanti a me. Ad esempio, la mattina io vedo i miei studenti davanti a me in classe. Il verbo guardare invece implica una volontà da parte del soggetto. Io guardo perché voglio guardare, ad esempio guardo la partita o guardo la televisione. Grazie a tutti, alla prossima!